Non c'è niente di più speciale che possa cadere a un uomo nella vita, ecco questo ci tengo insomma. Come sta il piccolino? L'altra volta avevamo parlato delle sue difficoltà che ha avuto da quando, pochi giorni dopo la nascita. Sicuramente sarà un percorso lungo nel tempo, però noi siamo molto soddisfatti, ma anche lui, perché la sua gioia di vivere, che ogni anno ci dà delle soddisfazioni, ci sorprenderà. E con piccoli passi, però insomma sta andando molto bene, molto bene. Cosa ti sta insegnando questa esperienza, questo percorso con lui, con Charlotte? Ma che sicuramente bisogna prendere la vita per come viene, bisogna sempre rimboccarsi le mani, e guardare avanti perché è inutile guardare dietro e pensare delle cose che alla fine non ti danno un risultato. Però io penso che la determinazione sia di noi come famiglia, ma anche sia di Gabriel, perché sicuramente lui nell'indole ha qualcosa di me che è molto combattente, molto lottatore. Ecco, sicuramente questo ci fa stare bene, ci fa andare avanti. Grazie. Grazie.